Il Drenor Il Drenor Il Drenor Il Drenor Il Drenor Su Drenor Vecchi rivali hanno provato a mettere Azeroth in ginocchio E benché la marea di ferro sia stata placata essi erano solo servi di un nemico più antico che non ha dimenticato il nostro ardile La vendetta dell'ombra infuocata è giunta ora ara le fare prof 82 Grazie a tutti. Nella nostra ora più disperata, dovremo usare il potere del nemico contro di lui. Poiché ancora una volta ci troviamo sull'orlo della distruzione. La legione infuocata ha fatto ritorno. Grazie a tutti.